Gli autisti e autotrasportatori la chiamano ironicamente la piscina. È una grande depressione nell'asfalto che ha creato tre grosse buche di svariati centimetri di diametro per altrettanti di profondità che in presenza di abbondanti piogge crea una pozza d'acqua gigante nello spartitraffico all'incrocio tra via Einaudi e via Filippini nella zona industriale di Bellocchi. E il sarcasmo in chi giornalmente o più volte anche è costretto a fare questo incrocio è proprio necessario visti gli sballottamenti ai quali sono sottoposti con le loro alte cabine, i tir di passaggio oscillando ripetutamente da destra a sinistra come si fosse in un tagadà. Lo svincolo è più usato in uscita da via Filippini in direzione superstrada ed è proprio qui che la piscina si è formata per il passaggio intensivo dei mezzi pesanti ma non è che le altre parti dello svincolo stiano meglio, due profonde buche sono presenti nell'asfalto una proprio davanti alla linea d'arresto dello spartitraffico e l'altro nella corsia di entrata. Insomma lasciate ogni speranza voi che entrate o uscite, siete destinati a sobbalzare. I camionisti si fermano e ci invitano a perorare la loro causa su questo disagio per rimandare il più possibile l'appuntamento col fisioterapista per la loro schiena e noi raccogliamo il loro accorato appello essendo stati proprio loro i segnalatori affinché questo punto martoriato della zona sia sistemato a dovere e l'unica piscina da frequentare quindi resti la Dini Salvalai.